Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la recensione senza spoiler e poi con spoiler di tutto ciò che mi è piaciuto di questo fantastico film. Wobalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica Marvel. Oggi parliamo appunto di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, film che è uscito il 4 maggio se non sbaglio nelle sale cinematografiche italiane e sono qui per parlare con voi di tutto ciò che mi ha entusiasmato di questo film. Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone nel multiverso e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e di questo video. Vi chiedo anche di iscrivervi agli altri miei social tra cui Instagram e Twitch su cui faccio anche altre cose oltre a YouTube, soprattutto il 19 maggio ci sarà una live della follia totalmente spoiler appunto su Doctor Strange. Partiamo subito con i lati positivi di questa pellicola, ovviamente la regia. La regia urla Sam Raimi da tutti i pori. Devo dire anche che la regia ha sollevato tantissimo una sceneggiatura molto semplice, a tratti anche banale, a tratti anche forzata, ma quando il regista ha una firma così peculiare, così pesante se vogliamo dire, che se voi seguite il mio canale sapete che io sull'Uomo Ragno non apprezzo tantissimo la regia così forte di Raimi su un film di supereroi. Qua invece è molto più sensata dato che è un film a tinte horror e è molto più horror del primo. Anche il primo regista era un regista horror che hanno affidato a Doctor Strange, però diciamo che verteva di più sul fantasy, verteva di più su, essendo anche un film di origini, diciamo, sull'avventura, sul fantasy, mentre qua le tinte horror sono davvero molto molto accese e sono tinte horror tipicamente di Raimi. I suoi close-up, i suoi primissimi piani super zoomati, questo film ti dà proprio dei jump scare, dal buio appaiono dei mostri dal nulla, ti dà proprio quell'entusiasmo, quelle vibe dalla casa e dall'armata delle tenebre. Non è il film perfetto, è sicuramente forse il film migliore di questa fase 4, purtroppo anche il migliore pecca appunto di sceneggiatura, è un vero peccato, ma perché pecca di sceneggiatura? Perché appunto credo che il difetto maggiore in questa fase 4 è che i film debbono portarsi dietro un po' tutto il bagaglio di dieci anni di MCU e si fatica davvero tanto a fare dei film indipendenti. Infatti arrivati a questo punto non si riesce nemmeno più a guardare un film del Marvel Cinematic Universe senza che non si sia visto anche qualche altro prodotto. In questo caso è praticamente obbligatorio aver visto WandaVision, è praticamente obbligatorio aver visto in un certo senso anche Infinity War, Endgame, tutte le pellicole dove Doctor Strange ha partecipato. In un certo senso anche No Way Home non è necessario, ma sarebbe gradito. E so già, sento già i vari cinefili dell'ultimo minuto che urlano allo scandalo perché questo non è un film, perché non posso io vedere un film senza... non posso vedere un film e aver visto per forza anche altri 20 film. Ma ragazzi, sti gran cazzi, questa è la formula vincente che la Marvel adotta da 60 anni anche sui fumetti. Lo ha fatto con tutti i crossover fumettistici e adesso sta applicando questa formula anche al cinema. E vi dovete recuperare altri prodotti, vi dovete recuperare una serie tv che magari avete già gratuitamente su Disney Plus, vi dovete recuperare un altro film che magari trovate a 10 euro in DVD oppure anche lì gratuitamente o su Disney Plus o su altre piattaforme. Sti cazzi ragazzi, la Marvel lo ha sempre fatto anche nei fumetti e i fumetti costano molto di più in proporzione a quello che dovete leggere per recuperare un crossover. Quindi portatevela in saccoccia, non fate tutti i sinergo dell'ultimo minuto, che sinergo può anche aver ragione perché è un amante del cinema. Ma questo cinema è settoriale, questo cinema è di nicchia. Che poi la nicchia attuale sia stata gonfiata da un'enormità di pubblico poser generalista, questo è un altro discorso. Ma sono film settoriali, sono film per i fan, quindi non ci si può neanche lamentare che per vedere questo film si debbano aver visto le altre opere. E non è vero che bisogna recuperare le cose, se si ha un'ottima memoria visiva è sufficiente guardare le cose una volta. C'è sinergo che dice, eh però io mi devo recuperare le cose come fate voi nerd. No, io ho visto tutto una volta eppure mi ricordo. Perché? Perché ho una memoria migliore da questo punto di vista. Quindi fondamentalmente non puoi apprezzare questo film se hai una brutta memoria, mi dispiace. I protagonisti di questa pellicola sono il punto forte dal punto di vista recitativo. E non è scontato ragazzi, non è assolutamente scontato. Cumberbatch e la Olsen su tutti sono quelli che danno il meglio di sé. Cumberbatch lo abbiamo visto appunto con le varie varianti. Curioso come non usino mai il termine varianti, ma fondamentalmente questo sono. È bello vedere il Dottor Strange interpretato in diverse sfaccettature. Per quanto riguarda invece Elisabeth Olsen, è stato molto bello vederla calata nei panni, non tanto di una Scream Queen di un horror movie, ma nei panni del mostro in un certo senso di un horror movie. Vedere che sa recitare in un film horror, rappresentando anche un pochino la tipica strega raimiana, è stato molto bello vedere questo suo aspetto recitativo, che sicuramente avrà sempre avuto, ma che non ha mai avuto modo di mostrarci finora. Anche il personaggio di America Chavez, di cui non conosco il nome dell'attrice, ma è molto difficile da pronunciare per me, quindi userò il nome del personaggio, pensavo che fosse l'ennesimo personaggio Marvel della nuova generazione, come appunto la nuova Vedova Nera, la nuova Occhio di Falco, eccetera, eccetera, buttata lì per il futuro dell'MCU Miss Marvel, che sarà la nuova Captain Marvel 1. Insomma, faranno gli Young Avengers con questi personaggi, e pensavo che avessero buttato dentro anche America Chavez in questo contesto. E invece no, diciamo che l'hanno sfruttata molto bene dal punto di vista narrativo, è un po' il fulcro della pellicola, e di questo sono molto molto entusiasta. Ora passo alla parte spoiler, perché devo dire una cosa che, se non avete visto il film, è meglio che non sapete. Quindi vi dico subito, fermatevi qua se non volete spoiler, cliccate qua sulla scheda se volete vedere tutto quello che ho di negativo da dire su questo film. Mentre, se volete gli spoiler, continuiamo subito tra 3, 2, 1. Lo abbiamo visto già nel trailer, in questo film c'era il Chark Xavier di Patrick Stewart, il Professor X, capo degli X-Men. Questa sarebbe stata un'ottima occasione per introdurre i mutanti, anche in modo ritroattivo, dato che i mutanti comunque vanno introdotti in un certo senso in modo ritroattivo, non tanto per Chark Xavier e Magneto, che comunque hanno quest'origine che ha a che fare con la guerra, ma di guerre purtroppo ce ne sono ogni 20 anni, se non di più, e quindi potrebbero introdurli in questo modo. Ma Wolverine, che è un apparente trentenne, che però è un mutante che ha più di 100 anni, e non ricorda più nulla del suo passato come l'Action Man. Ecco, i mutanti bisognerebbe introdurli in questo contesto, proprio per questo motivo, e questo film sarebbe stata una ghiotta occasione per farlo, ma non lo hanno fatto. Hanno rinunciato a una ghiotta occasione per introdurre i mutanti, per introdurre i Fantastici 4 in questo Marvel Cinematic Universe, però in merito a cosa? In merito a fare un buon film. Raimi non ha voluto mettere troppa carne al fuoco, quindi quei camei che vediamo sono solo camei, perché in un certo senso avrebbero davvero confuso troppo lo spettatore, se avessero messo anche tutte queste cose per il futuro dell'MCU. Le hanno solo accennate, ci hanno solo fatto vedere un omaggio, un omaggio a What If? con Captain Carter. Volevamo tutti vedere l'attrice di Captain Carter in carne e ossa. E che carne, scusate. Volevamo tutti vedere il Patrick Stewart, volevamo tutti vedere gli X-Men, no? Prima o poi. E ce le hanno fatti un pochino assaggiare. Volevamo vedere tutti Reed Richards, impersonato proprio da quell'attore di cui, scusate non so il nome, ma so che il fandom lo voleva, e Sam Raimi e la Marvel ce lo hanno dato. Sicuramente quell'attore farà a questo punto Reed Richards anche nel film sui Fantastici Quattro, invece sicuramente Shark Savior, interpretato da Patrick Stewart, è una variante che non vedremo interpretata da Patrick Stewart, perché chiaramente prenderanno un Professor X più giovane. Fateci caso che quello è il Professor X sulla sedia a rotelle fluttuante e gialla, quindi non è il Professor X dell'universo cinematografico della Fox, ma è sicuramente il Professor X, sicuramente, non lo so, però è più probabile che sia il Professor X dei cartoni animati del 97, anche perché è schiattato pure stavolta, quindi non è il Professor X che è schiattato in X-Men Conflitto Finale, non è il Professor X che è schiattato in Logan Wolverine, che poi è lo stesso perché nel frattempo era risuscitato, ma è un Professor X dei cartoni animati di quella saga dei cartoni animati probabilmente che è schiattato in questo contesto. Mi dispiace, fan dei cartoni animati tra cui io, però ci hanno mostrato la morte di quel Professor X. Ho avuto un po' delle vibes a Thor Ragnarok, come struttura narrativa di questo film, perché appunto c'è la cattiva che diciamo è tenuta da parte in una zona, il nostro universo, e il protagonista che va a fare cose da un'altra parte. Thor Ragnarok era appunto su Sakaar, mentre qua Doctor Strange è in questo universo dove ci sono gli Illuminati. Ciò nonostante è comunque stata gestita meglio, perché ha più senso rispetto a Thor Ragnarok. Non vediamo Hela che sta lì a aspettare, ad ammazzare Asgardiani, ma semplicemente vediamo Wanda che cerca di raggiungere Doctor Strange e non lo può raggiungere perché non ha il potere di attraversare il multiverso e si dà al dreamwalking. Quindi da questo punto di vista ha più senso questa cosa che abbiamo visto, anche se appunto mi ha un pochino ricordato Doctor Strange. Mi fa molto ridere che tutti dicono Doctor Strange Multiverso Madness è una gioia visiva, è una gioia per gli occhi. Cazzo, non sapete quanto è una gioia per gli occhi. Ci sono occhi ovunque. Il mostro iniziale è un Beholder, quasi, in realtà ha un grosso occhio centrale che viene tra l'altro cavato in maniera molto splatter all'inizio del film. Poi si formano gli occhi al centro della testa del Doctor Strange, quello cattivo. Poi alla fine appunto anche il nostro Doctor Strange ha un terzo occhio. Poi non so quando, ma a un certo punto ci sono degli occhi nelle mani di qualcuno, non ricordo di chi. Tutto molto occhiesco. Questi occhi che spuntano ovunque sono un'altra firma di Sam Raimi, oltre a Tiziano Sclavi che invece la metteva nei suoi fumetti di Dylan Dogg, ma anche in Sam Raimi, mi ricordo in L'Armata delle Tenebre, quando si forma il gemello cattivo di Ash, c'è anche l'occhio sulla mano. Qui abbiamo il gemello cattivo di Doctor Strange. Anche in questo ci sono molte, diciamo, ricorrenze al filone narrativo di Sam Raimi della casa. Anche quando vediamo il Sancta Sanctorium nell'universo quasi distrutto di Doctor Strange, quello cattivo, vedere questo Sancta Sanctorium così isolato da tutto, piantato in mezzo al nulla, mi ha ricordato molto la casa. Dal punto di vista della sceneggiatura mi dispiace solo che appunto Wanda si sia un pochino annullata, no? In questo film, perché aveva avuto quasi un percorso di redenzione in WandaVision. Qua invece pare che sia diventata talmente ostinata nel recuperare i propri figli da non essere assolutamente ragionevole. Poteva benissimo andare in un universo dove i suoi figli c'erano e avevano perso la loro madre. Stare lì è finita così. Invece no, doveva strafare, doveva andare in un universo a caso dove c'era una Wanda viva, toglierla di mezzo e prendere i poteri di America Chavez uccidendola. Perché sì, perché così li aveva lei e faceva quello che voleva nel multiverso. Un po' forzato. Un po' forzato. Bene, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Doctor Strange. Promuovo il film? Sì, è il miglior film in assoluto. No? È un film che avrei voglia di vedere, rivedere, rivedere? No, ragazzi, non è un film che vorrei rivedere così. per tutti i motivi negativi che trovate in questo video. Un film che rivedrei a oltranza è Jurassic Park, è Ritorno al Futuro, è Ghostbusters. Questo film, che tra l'altro fateci caso sono tutti film vecchi, quindi probabilmente legati al fattore nostalgia, questo film non lo rivedrei perché appunto lo sento comunque un'opera un pochino incompleta da vedere a sé stante. Quindi forse si inerga un pochino, ha ragione. Però ecco, ci sono comunque film dell'MCU anche di questa fase 4 che rivedrei. Non è uno di questi. Ma non perché sia un brutto film, ma perché c'è semplicemente, forse mi aspettavo un pochino di più dal punto di vista della sceneggiatura. Tutto il resto è ad altissimo livello, grazie soprattutto a Sam Raimi che tra l'altro non credo sia stato osannato abbastanza nel tour pubblicitario. Hanno messo molti riflettori sugli attori, Sam Raimi secondo me doveva essere osannato molto, molto di più per il lavoro che ha fatto. Grazie ancora per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci nell'altro universo. Pare che qualcuno abbia perso il controllo nell'elogiare questo film, ma questo film non è tutto rose e fiori. Cliccate qui e andate a vedere nel multiverso la mia recensione negativa. Grazie a tutti.